Venezia. Controlli dei carabinieri in diversi locali di Campo Santa Margherita. Sono state riscontrate in regolarità in tre bar ristoranti, i cui titolari sono stati denunciati perché senza documenti di valutazione dei rischi, con carenze di formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancanza di mezzi antincendio o loro mancata revisione. Gli accertamenti, che riguardano anche l'assunzione dei dipendenti, proseguiranno nei prossimi giorni. Iesolo. Con l'arrivo dell'estate si rafforzano i controlli delle forze dell'ordine sulla Movida Cittadina. Nei fine settimana e durante particolari occasioni di festa sarà attivato un presidio fisso della polizia locale, supportato dagli agenti del commissariato di polizia. Sandona di Piave. Giornata di polizia straordinaria della caserma Tombolan Fava. Sabato sono state impegnate dalla mattina cinque squadre della protezione civile, mentre continuano i lavori di polizia ordinaria. Nell'area della struttura, recentemente acquisita dal comune, sono stati finora disboscati oltre 2000 metri quadrati e raccolti oltre 150 quintali tra legna, ramaglie e vegetazione. Santa Maria di Sala. Da oggi tutti gli impianti sportivi del comune, dalle palestre ai campi da calcio, sono stati dotati di defibrillatori, gli apparecchi salvavita in caso di attacchi cardiaci. Una disponibilità resa possibile grazie alle donazioni di diverse associazioni del territorio, secondo un progetto sulla prevenzione dell'arresto cardiaco durante l'attività sportiva, promosso dall'Ulss 13.